Nuovi scenari politici si delineano nella vallata metelliana, frattura nel Partito Socialista dove alcuni membri del direttivo hanno presentato le dimissioni. Antonio Pisapia, alcuni membri del direttivo dello SDI si sono dimessi dal partito, qual è la motivazione? È una motivazione sostanzialmente politica in quanto gli ultimi eventi politici a livello nazionale hanno determinato una situazione per cui la possibile confluenza del Partito Socialista insieme a altre forze politiche, quale la Sinistra Democratica, una parte dell'ex rifondazione comunista, cosiddetta area di Ventola e i Verdi, avrebbero la possibilità di costruire una nuova forza politica o avviano un percorso che potrebbe arrivare a costruire una forza politica di cui noi non ci sentiamo parte. Questo ha determinato una scelta di non avviare nessun lavoro in questo senso e la nostra indisponibilità a fare una scelta di questo genere. Ecco appunto lei insieme a Palumbo fa parte del Consiglio Comunale, adesso cosa accadrà? Cosa accadrà? Che noi insieme ad Antonio Palumbo costituiremo un nuovo gruppo che avrà nome Riformisti per Cava.